Ho contattato tutti, tutti, prani Messi, i giocatori che mi avete consigliato, erano una marea, grazie E adesso dobbiamo giocare per forza, contro l'altra squadra prima in classifica, il Milan, Torino-Milan Con Filippo Giacoletti in modalità campione, quella maledetta pioggia Si gioca, non gioco da una settimana, cacchio Ora me la passo così, poi attacchiamo piano piano Lotta per il primo posto, via 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 Giannardi c'è, un Esmori, la deviata, ma Perez c'è, forse c'è, forse c'è, forse c'è, forse no, non c'è Kennedy la cross all'ultimo, Perembolo che la canna completamente No, 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 ma porca di quella miseria, Montolivo, no Non mi può segnare Montolivo, alla prima azione Kennedy la cross al centro, ci arriva i segni La cross al centro, Perembolo di testa, niente Insigne batte il caccio d'angolo, ci va il portiere, prima di tutti, ma la tira da fuori, che cavolo No, 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 no Oh mamma, via 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 Oh mamma mia l'hardi E finisce il primo tempo 1 a 0 per il Milan Non va bene No, 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 ancora Montolivo Ma non ci credo Young, Young ci prova a 0 con deviazione, porca Milan baggato del K, Montolivo del K, tutti K, avete rotto il K Young la passa per Embolo che la py, deficienti Embolo lo vede per Zappacosta, 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 tira Zappa Maffan cuore No Nardi no E finisce la partita 2-0 No no basta Non voglio dire niente ok Nel momento più importante BCCDD E Coman sale a 72 Non riesco ad acquistare nessuno Nardi non lo vendo a nessuno Capito Squadra stanca Torino Sampdoria con la seconda squadra Ancora con Filippo Giacoletti Modalità campione nuvoloso stavolta Non dobbiamo fallire Martella la passa per Martinez Sì c'è anche Martella Martella se la lancia benissimo per Coman Coman se la ritrova la crossa al centro per Obi Palo Belotti sulla fascia Belotti la crossa al centro per Obi E ancora calcio d'angolo Sapa cosa fate il calcio d'angolo Ci va di testa non so chi De prendi lei Lei porca la miseria Toglieteli quella maledetta palla Nelle scuffette che parata Belotti la mette al centro Ci arriva Maury Giuseppe Maury Primo gol E andiamo così No 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 scuffette E finisce il primo tempo 1-0 per noi No 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 mamma mia scuffette E martella No 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 scuffette Maury con la palla Maury vuole la doppietta Maury altruisse la passa ed è gol Zappacosta In segno e vede libero Parigini Invece la passa per Coman Coman non ci arriva Parigini Coman Zappacosi E finisce 2-0 E finisce 2-0 Non riesco a comprare nessuno E' una vergogna Manda 100.000 euro per la Team Cup Grazie Se mandano offerte solo per Nardi Cioè Visto che non riesco a comprare nessuno Compro lui Motivazione Lo faccio correre Offerte per Nardi inutili Ok ora ci divertiamo Torino Pescara Con Gustavo Pologna Modalità campione La nebbia Voglio farne 5 in modalità campione Solo per il record Adesso perderò logicamente Quando dico così E' sempre così C'è pagliaccelli in porta Quindi a posto Oh 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 che tunnel Oh che stazione Oh fermi Non hanno i nomi dietro alla maglia Ma come? Vengono dalla serie C Ma da dove li han pescati? O da dove li han pescara? Embolo rientra Embolo Embolo mi viene messo giù Ma cosa? Neanche la crossa al centro ci arriva Niente Non riesco ad attaccare Insegna la crossa al centro Ci arriva di testa qualcune E poi gli accelli la para Ehm... cosa? Cosa? Ma ha segnato il pesca? Ma come? Avellar La mette per zappa costa Ehm... Non riesco a far nulla Finisce il primo tempo 1-0 per il pescara Oddio quando succede Che ci sono le piccole squadre Che diventano John Cena da un momento all'altro Mi stanno massacrando No 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 Mamma mia mamma mia mamma mia Ultima azione Oh piccola... che cos'è? Ma non ci credo Finisce la partita 1-0 per il pescara Oggi non ce la faccio in campionato Ma zero Avevo raggiunto il primo posto? Avevo Poi oggi sono scemato La Juve è tornata a suo bellissimo primo posto Ok sta per arrivare Simon E non si vuole trasferire Porca la miseria Offerta per ossa in prestito Il Milan ha superato la Juventus E io sono a meno 9 punti Ancora con Filippo Giacoletti Modalità campione contro la Fiorentina Ce la posso fare oggi? No sono in Coppa Italia E si gioca a Fiorentina Me ne frega niente che si chiama Firenze Kennedy con il pallone Fu un numero Kennedy la crossa in mezzo a rovesciata Diventa un tiro Ma cos'è sti pazzi vuoti? Ma dai Non stanno incominciando a massacrarmi? No Non è passato per Insigne Insigne ci prova a giro Buttala dentro Kennedy Sì! Avevo beccato pure il palo 1-0 Finalmente Kennedy Kennedy La crossa viene messo giù E rigore netto Ma dai Ci va Nardi? Non ci va Nardi Oggi è scemo E finisce 1-0 il primo tempo per noi No 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 Eh... Meno male l'avevo vista dentro No 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 Nardi No 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 por mamma mia Nardi Il pallone viene passato per Sané 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 il contropiede Possiamo sbruttarlo Sanéee 2-0 Quando c'è Kenny dice anche Sané Tre volte che segnano insieme Uno dopo l'altro E solo loro due No 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 Nardi Oggi c'è Oggi c'è In questa partita c'è Soppa Costa la gioca benissimo per Obi 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 No parata E finisce la partita 2 a 0 Meno male Due vittorie e due sconfitte Sì adesso abbiamo ancora la Fiorentina contro Che bello E va bene ditemi i giocatori da comprare Che costino nulla dopo due anni E ciao a tutti Di ABFC